Musica Bentornati amici del gameplay su Game Oversize Sono tra 90 e siamo sempre su dominio degli avamposti Questa volta con una fortezza, precisamente la fortezza di Nur Tenteremo di farla totalmente stilt Con balestra automatica, arpione e predator Non capisco perché la porta è aperta Perché già ho provato di fare altri domini delle fortezze E le porte si chiudevano sempre Ora non so perché qui è aperta Boh, sarà un bug del gioco Perché vedo anche due morti Quello è buono, sono due morti in meno Boh, peccato Allora, tanto a noi non ci frega niente A noi non ci frega niente perché noi non entraremo da davanti Ma, bensì, entreremo dalla porta sul retro Bene, saliamo La nostra bella balestra, ragazzi Che arma spettacolare Ah, un'altra cosa Non mi avete consigliato niente nella puntata scorsa, ragazzi Eh, peccato, peccato Solo Tommy, ma le armi che metto Tommy Non ho i soldi per comprarle Quindi è rimandata Quando ce li avrò, ragazzi Tommy, sa Ma da qua ti vedo Cecchino delle mie brame No Andiamo un po' più sopra Qui Qui dovrebbe andare bene Predator Ecco, ti vedo Colpo alla testa Adesso entriamo dal retro Dovrebbe stare qui Se non mi sbaglio Così, eccola Questa è la prima volta che tento di fare una fortezza solo stilta, ragazzi Ho anche un po' di timore Vediamo Sarà abbastanza difficile Non c'è nessuno Oh, oh, uno Due addirittura Dovevo farli fuori subito No, prima vediamo se Riusciamo a marcare qualcun altro Bene Oh, uno lì Ci vorrebbe un po' di venticelle Due Quindi quello sta avvenendo qui Dimmi che ti giri No, non si gira Quindi starà avvenendo qui Veramente Mamma mia, ragazzi Era, era un cecchino Cercate qualsiasi cosa Ma lì vengono fermi Non capisco perché Entriano dovrebbero scappare È morto, ragazzi Oh, l'allarme L'allarme è andato Mamma mia, ragazzi La balestra è un'arma Veramente bella Io all'inizio del gioco L'ho Totalmente Snobbata Grave errore, ragazzi È un'arma Che dà soddisfazione enorme Infligge un danno enorme È silenziosa Un'arma perfetta Per questo tipo di Oh, corazzato No, ragazzi No, non può venire qui Oh, per fortuna, ragazzi Così, bravo Scappa Sì, scappa Ma che scappa, ragazzi Quello dove sta andando No, no, ragazzi No, non posso rischiare Allora, è un ambiente Troppo piccolo Non ci mettono niente A vederci Non ci mettono veramente Niente a vederci Ragazzi Gli basta poco Però questo sta andando Per fatti sua È morto, ragazzi Bene Oh, ci siamo Lì giù Facciamo fuori con il Predator Che dici? Farò un punteggio di merda, ragazzi Però la farò stilt Senza farmi scoprire Chi è rimasto adesso? Non porto mai le siringhe della caccia Per vedere Per vedere i nemici Mai, ragazzi Portatele sempre Perché sono essenziali Ma mi era sembrato Di vedere qualcosa muoversi Mi era sembrato Di vedere un gatto Altre voci Da dove adesso, però? Ah, ma qui c'è Oh Oh, cribbio Non me ne era accorto Dall'ingiù che qui Che qui c'era Morto Bene Oh, che cavolo c'è? All'ultimo allarme Ok Gli allarmi non sono più un problema Vabbè Bisogna solo capire Chi c'è qui dietro Quello stava parlando Con qualcuno Sembra anche che sento Di passi Ma Non posso Esserne sicuro Ci sono delle scale? Oh, è solo un terrazzo Oh, è solo un terrazzo Bene Questo non mi serve Chi c'è qui sotto? Uh Uno solo Uno? C'era un altro che camminava lì? O erano lo stesso? Dobbiamo essere precipitosi Ragazzi Non sappiamo Quanti ne mancano Perfetto Cosa è stato? Mi ha sentito Ora se c'è Oddio Mamma mia Voglio continuare a sentire Sti passi Ragazzi Boh Boh Bene Perché è verde? Chi mi ha visto? Ho sempre con sta cosa Dessa luce verde Penso a nessuno Ragazzi È andata anche abbastanza bene Solo che sentivo Che va Sti cuffie Boh Sono utili Un po' il punteggio Farà schifo al cavolo 600 Eh beh Quello bronzo Dai Dai Ci può stare Ora non me ne ho scoperto Bene Almeno quello Ho fatto tre colpi nella testa Record per me ragazzi Record Che record Bene Allora Io che vi devo dire? Vi devo dire Niente Per un po' di tempo Continueremo con questi video Sugli manpost Io vi ricordo sempre Di essere attivi Con i commenti Di propormi modalità di gioco Quello che Che vi pare Ditemi Tra Vatta buttata 3000 metri Col paracadute De qua e là Quindi io sono in Trepita attesa Per il DLC Non vedo l'ora Già che Già che Stiamo allenando Già Bene bene Quindi ragazzi Da No che dai Vi ricordo di mettere Un bel mi piace Di commentare Di condividere il video E chi non l'ha fatto Di iscriversi Da Game Oversize Tra 90 è tutto Ci vediamo Nella prossima puntata Ciao ciao ragazzi